Ciao ragazzi, ciao Buuuuuhhhhhh bravi bravi scoppierà per passione ma come avete fatto? non riuscivo a credere a quello che mi stava accadendo ad un tratto non mi importava più di nulla e di nessuno ma era una follia pensare di ascoltare i miei sentimenti anche perché il successo dello spettacolo fu talmente enorme che ci chiamarono a recitare in tutti i maggiori teatri d'Italia e dovunque andavamo era un trionfo assoluto grazie al successo di Bohème fumo chiamati in tournée per tutta Europa con un nuovo allestimento e così recita dopo recita mi innamorai sempre di più di Enrico della sua bravura della sua generosità e della sua capacità di farsi amare dal pubblico e da me mi ok mi ok mi ok mi ok ma mi ok il mi ok mi ok mi ok ragazzi ciao ciao ragazzi ciao